Sai, mi dicono la colpa è della curva Ultrasrivery, una nazione urla Non ci avrete mai! Io penso che il livello di stronzaggine... Ci sono vari livelli, no? Porca... Ho perso il filo del discorso Mi ha fatto perdere il filo del discorso e non mi ricordo più cosa dovevo dire Poi mi è partito l'embolo, tanto io tutto Quasar! Andiamo incontro a un periodo bruttissimo, no? Tra un po' ci sarà il mondiale Non giochiamo al mondiale Non c'è il calciomercato Non c'è la serie A Non ci sono amichevoli Non c'è Nugaz Iniziano le cose assurde Perché prima si sparavano solo nomi, no? Si sparavano bombe a cazzo Ho scoperto una nuova cosa da ieri Perché su una testata giornalistica online Del Milan, molto famosa ma non dico il nome Hanno iniziato a fare anche una nuova cosa Non l'avevo mai vista questa cosa qua io È nuova Hanno le percentuali di arrivo di un giocatore Cioè al 75% arriverà a lui Al 10% arriverà a lui Ma che cazzo state dicendo? Ma se non sappiamo neanche se fino a domani arriviamo Magari esco di casa e mi schiaccia un camion tra due minuti E voi fate le percentuali Ma attenzione perché è il solito nome Si parla sempre del solito nome ZIAC Basta, sono due anni che rompete le palle Con sto giocatore, ma avete scocciato Noi siamo il Milan I amoli rosso neri campioni d'Italia Finalmente si torna in campo Se non vi siete ancora iscritti al canale Ve l'ho già detto iscrivetevi al canale Non mi ricordo più Iscrivetevi, lasciate like È tutto completamente gratuito Prima di andare a parlare di Milan Vi voglio dire una notizia molto importante Una cosa dal profondo del mio cuore Che vi farà contenti Sta per rinnovare Ancora Per cinque anni DASO DASO, arrivederci Vediamo domani Di per cinque anni Continueremo a vedere le partite così Ibrahim Parliamo di Milan Monza Vecchi amori che si ritrovano Perché Berlusconi e Galiani Torneranno a San Siro per la prima volta Contro il Milan C'è un cagamento addosso generale Vedo qualche video Qualche d'uno si sta preoccupando Perché Mr. Piole vuole fare Un po' di turnover Secondo me ci può stare Per tanti motivi Altrimenti Gli altri giocatori Che cazzo abbiamo presi a fare Per far rifiatare Giroud come abbiamo visto Contro il Verona E sulle gambe Poveraccio Non ce la fa più Deve riposare Lo stesso Leao E poi andiamo incontro A una partita Molto importante Di Coppa Dove il Milan Non può sbagliare Quindi è meglio Far riposare qualche d'uno Se non Cioè Queste sono le partite ideali Contro il Monza Nulla da togliere al Monza Perché è una partita Molto insidiosa Attenzione al Monza Perché può dare fastidio Come abbiamo visto Contro altre squadre Soprattutto con la Juve Mai sottovalutare l'avversario Ma queste sono le partite In cui dai fiducia ad altri Abbozziamo una formazione Velocissima Anche se ci sono dei problemi Perché Benassiano Si è allenato Pure lui ha la febbre Tatarusano in porta Dest Sulla destra Sinistra Ternandez Centrale dovrebbe essere Cicchier Titolare Insieme a Tomori Andando avanti A centrocampo Ci dovevano essere Benassera e Pobega Benassera ha la febbre Quindi Dovrebbe giocare Tonali Insieme a Pobega Andando avanti Sulle due fasce Da una parte Messias Dall'altra Rebic Che farà riposare Raffa Leao Trequartista Mettiamo Brian Diaz E davanti Orighi Che farà riposare Olivero lo Sparviero Giroux Che ha tirato la carretta Fino adesso Ma è il momento Di dare spazio ad altri E rifiatare Questa dovrebbe essere La formazione Poi Ne succede sempre una Quindi alziamo le mani E vi dico Vi voglio bene a tutti Sempre Forza Diavolo E ci vediamo questa sera Grazie a tutti